Le parole importanti in realtà dell'amministratore Pelusi, ovviamente abbiamo anche dei nomi ulteriori che ci ha fornito per il calcio Foggia, le prime conferme e Luca è il momento della raffica di mercato. Cedo a te la parola, so che hai tante cose in pentola. Tante peraltro, una notizia fresca ci è arrivata proprio ad ora in questi istanti, però la leggiamo più tardi, la diamo tra qualche istante. Partiamo con ordine, andiamo con la Serie D, perché è un Cerignola molto attivo, le parti sono vicine per il ritorno di Jimmy Allegrini al Monterisi. Il difensore che lo ricordiamo ha giocato con Iofantini per una stagione e mezza, lo ha fatto dall'inizio del 2018 fino alla fine dell'annata 2018-2019, sarebbe un altro ritorno dopo quelli di Amabile e Esposito. Il nome nuovo è un trequartista, Ezechiel Aleandro Melillo, classe 93, ex Messina, per lui sarebbe la prima esperienza in Puglia. A proposito di ritorni, piace anche Riccardo Lattanzio, sondato anche da Casarano e Taranto, non è da escludere però una conferma dell'attaccante andriese a Bitonto. La Fidelisandria prova a stringere per Mirko Guadalupi, trequartista che nell'ultima annata è stata la team Altamura e ha messo a segno nove reti. Abbiamo detto delle conferme del Foggia, su tutti Gentile Anelli e Gerbaudo, in casa team Altamura si attende l'ufficialità per Lanzolla e anche la conferma di Croce, ma ci sono pochi dubbi in merito. In casa Gravina c'è una novità, restiamo sulla Murgia perché dopo Catinali, che di fatto è stato un innesto d'esperienza, c'è un rinforzo. Classe 97 risponde al nome di Francesco Pio De Feo, mezzala 23 anni, originaria di Pagani, nelle ultime quattro stagioni sempre Serie D per lui, nell'ultimo anno diviso tra Vasto Girardi e Cannara. Scendiamo al campionato di eccellenza, la novità di giornata, una delle novità di giornata arriva da Corato. C'è un ritorno, è quello di Daniel Mattias Coteio, che vestirà la maglia nero-verde per la stagione 2020-2021, esterno offensivo di centrocampo argentino, di Buenos Aires, classe 1987. In Italia la sua carriera ha avuto il via nel 2014 nel Real Metapontino, eccellenza lucana, poi è passato da Corato nella stagione 2017-2018, segnando sei reti. Dopo Termoli, Pavia e la polisportiva Santa Maria, ecco di nuovo il Corato per Coteio. Riparti invece dall'esperienza di Dino Marino, il Martina. Nella scorsa stagione, lo ricordiamo, Marino capitano del Brindisi, rimane in Puglia, a Proda in Valle d'Itria. Questa è la foto postata sui canali social del club. E allora, dopo Frucci, Delgado e Camporeale, anche Marino, ma sta per definire il Martina, all'arrivo di un centrocampista, lo spagnolo Luis Alberto Osserin, che è stato compagno di squadra di Delgado a Chieti. Novità che arriva dal Barletta, che ha di fatto ingaggiato Felice Donofrio, esterno offensivo che non cambia città, cambia bensì maglia, perché passa dall'audace Barletta al Barletta 1922. L'anno scorso Donofrio è stato tra i migliori esterni del campionato di eccellenza pugliese. 21 presenze e 7 reti per questo classe 94. Si aggiunge a Varsi lo iodice di Rito e Morra, Barletta che presenta davvero un attacco top class per la categoria. Barletta che opererà almeno altri tre interventi, scusate, sul parco senior. Due difensori e un centrocampista, da non escludere la conferma di Gaetano Zingrillo. Spostiamoci in casa, audace Barletta, fatta per Ciglie e Savot in porta. Sondaggi in attacco per Ciriolo della Forti Saltamura e d'Introno dell'Ortanova. Le idee per il centrocampo sono Cannito della Forti Saltamura e Cordisco dell'Unione Calcio Bisceglie, che piace anche al Manfredonia, ma potrebbe anche restare nella città dei Dolmen. Protagonista di giornata anche il Massafra, che ha battuto cinque colpi, ben tre in porta. Il primo tra i palli è il Tarantino Doc Pierluca Pizzaleo, classe 97. Esperienza in passato a Taranto, ultimi tre stagioni in serie D. Arriva anche un baby, Zigrino, Flavio Zigrino, portiere classe 2002, scuola Diavoli Rossi, reduce da una stagione in promozione con il Castellaneta. Classe 2001, invece, è Alessandro Gallitelli, che arriva dalla primavera, dalla Berretti, scusate, del Monopoli. L'anno scorso per lui, esperienze a Martina e Corato in eccellenza. In difesa ha firmato Gio Pedro Pellisson, l'anno scorso allo Sporting Vallone, in eccellenza siciliana. Ufficiale anche l'arrivo di Vito Dentamaro, centrocampista di provata e esperienza. Ha giocato con Bitonto, Rieti, Nuoro, Melfi, anche Castrovilla, di Barletta, Molfetta e Fortis Altamura. Inoltre il Massafra sta concludendo altri arrivi, quelli del difensore classe 95 Michele Bitetti, del centrocampista classe 86 Leonardo Panzarea e di Antonio Di Matera, già concluso, classe 86. Conclusa anche per Francesco Ranieri, cinque gol in dieci presenze con la Torrese, eccellenza abruzzese. Nell'ultima stagione, infine, un'ufficialità dal mercato di Serie C, perché il Monopoli ha comprato Simone Sales. Di fatto il contratto sarà depositato il primo di settembre, ma l'ex difensore del Potenza è una realtà. Difensore pugliese classe 1988, nell'ultima stagione 24 presenze con il Potenza. Il Bari, invece, lavora per confermare Vincenzo Vivarini. Nelle prossime 24 ore in programma un incontro con l'allenatore abruzzese. Si dovrebbe andare avanti e poi sarà tempo di programmare anche il calcio mercato.